Eccola qui Eccola qui, come va? Eccola qui Devo ringraziare tutta questa gente Certamente si Sono bravissimi Guarda, non ne dimenticherò mai di voi Grazie E' contenta di rivedere il suo figlio E' contenta di rivedere il mio figlio E' contenta di rivedere il mio No, no, no No i non Qui ci sono contenta di rivedere il mio figlio Questa è tutto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie. Grazie a tutti.